Allora, in quest'ora In quest'ora, come vi dicevo, parleremo di programmazione funzionale in JavaScript che in questo set di slide sulla programmazione asincrona perché la programmazione asincrona viene fatta tramite funzioni, tramite callback quindi partiamo dalle callback, partiamo, continuiamo con i metodi funzionali e poi proseguiamo da lì per i metodi asincroni per tutte le callback asincrone che comunque saranno sempre funzioni Come dicevo prima, oggi ci concentriamo su callback e metodi funzionali completeremo anche l'esercizio che abbiamo fatto i tre metodi che ci avanzano da completare con la programmazione funzionale e poi settimana prossima completeremo questo set di slide e questo argomento con tutta la parte asincrona di JavaScript e l'accesso al database come un esempio di una libreria che utilizza metodi asincroni Partiamo dalle callback Una callback l'abbiamo già trovata in pratica la settimana scorsa quando abbiamo provato a usare sort e sempre la settimana scorsa vi ho detto che in JavaScript le funzioni sono oggetti e quindi possono essere per esempio passati come argomenti ad altre funzioni E questo è il significato della callback La callback è una funzione che viene passata in un'altra funzione come parametro, come argomento che a quel punto viene poi invocata dalla funzione stessa per fare delle operazioni Se ricordate nella sort la sort se passavamo una funzione come ultimo parametro la sort utilizzava la sort funzione esterna utilizzava la funzione passata come parametro la callback per decidere l'ordinamento qual è la logica dell'ordinamento dei valori all'interno dell'array E questa è una callback La callback in JavaScript possono essere possono avere un comportamento sincrono come nel caso della sort o un comportamento assincrono e noi al momento ci concentriamo sui comportamenti sincroni E qui c'è un esempio di una callback di una callback creata a mano in questo caso Di una callback creata a mano in questo caso in cui c'è una funzione che si chiama logquote che viene passata come parametro di un'altra funzione che è createquote che al suo interno chiama la callback E questo è un elemento di flessibilità del linguaggio perché ci permette di definire funzioni come questo createquote che sono generiche e che a un certo punto abbiano un parametro per stampare In questo caso createquote prende una stringa e poi vuole una funzione che decida come stampare quella stringa E quindi attraverso la callback possiamo passare una callback come logquote che stampi quella stringa su console.log ma potremmo anche inventarci una funzione databasequote che prenda quella quote e la salvi in un database o filequote che prenda quella quote e la salvi su file quindi che faccia o sendquote che mandi quella citazione da qualche parte via email, via messaggio, via chiamata HTTP quindi ci dà flessibilità di avere una funzione che ha uno scopo creare una citazione partendo da una stringa e ci permette di agganciarci una funzione diversa in base al fatto che vogliamo stamparla salvarla o fare altre operazioni senza cambiare la funzione originale o la funzione contenitore che è questo createquote e come vi dicevo abbiamo già visto una callback sincrona abbiamo già visto una callback sincrona nella sort in cui passavamo in cui passavamo dentro la sort un'altra funzione che adesso sappiamo essere un arrow function che deve funzionare in un determinato modo perché è chiamata dalla funzione sort che definisce quindi la logica di esecuzione della callback per funzionare correttamente e questo è sincrono perché questo si chiama sincrono? perché viene eseguita quando viene richiamata perché viene eseguita quando viene richiamata viene eseguita interamente quando viene richiamata quindi aspetta se questa sort se questa funzione di calcolo della sort ci mette due minuti il programma rimane bloccato per due minuti mentre fa il calcolo della sort aspetta il termine dell'esecuzione prima di proseguire con il resto del programma quindi il sort per esempio è una callback accetta una callback sincrona ci sono altre funzioni che accettano callback asincrone che quindi vuol dire che vengono chiamati in quel momento ma poi il programma non aspetta il termine dell'esecuzione il programma va avanti e questo viene fatto in un modo particolare in javascript che vedremo da un punto di vista teorico perché javascript come motore è sincrono javascript non fa thread per esempio però riesce comunque a simulare un comportamento asincrono e questo settimana prossima è un'anteprima di quello che vi dirò settimana prossima quindi normalmente javascript funziona solo in maniera sincrona e quindi ecco perché la sort e la maggior parte delle funzioni standard funzionano in maniera sincrona ovviamente questo è un problema per il web questo funzionamento in maniera sincrona perché immaginate di dove fare un'operazione sul web che dura l'accesso al database che magari dura un minuto non volete avere una pagina web bloccata che non fa niente per un minuto fin tanto che l'operazione sul database è in esecuzione vorreste che andasse avanti che facesse qualcos'altro se no rimane sembra bloccata no? e questo è vero anche se fate operazioni sul browser quindi se io devo cliccare un qualcosa e ordinare una lista direttamente nel browser in maniera simile a quello che abbiamo fatto l'altra volta in node immaginiamo in un browser non voglio stare a aspettare un minuto 30 secondi l'ordinamento della lista se clicco da un'altra parte il sito l'applicazione deve funzionare non può rimanere tutto bloccato e questo non rimanere bloccato è quello che ci darà la sincrono ma per ora concentriamoci sul sincrono e le callback sincrone come la sort sono anche utilizzate per esempio nei metodi funzionali questo filter è un metodo funzionale che accetta una callback sincrona quindi agisce in modalità sincrona per come dire il nome filtrare secondo un certo criterio e il criterio ce lo dà appunto la callback quindi filter è una funzione generica che filtra secondo qualche criterio e poi che cosa sia esattamente il criterio sta allo sviluppatore in quel momento quando chiama la filter specificarlo tramite la callback questo di nuovo ci dà flessibilità in quello che possiamo fare perché con un'unica funzione generica filter possiamo avere molteplici modi di fare un filtraggio questi metodi tipo filter fanno parte della programmazione funzionale noi non andiamo in dettaglio sulla programmazione funzionale perché vi servirebbe un corso a parte di programmazione funzionale ma giusto per darvi due idee perché javascript include diversi paradigmi a suo interno inclusi il paradigma funzionale e molte operazioni sono molto più veloci e comode da fare utilizzando dei metodi funzionali rispetto a dei normali for per esempio per esempio il filter se dovessimo filtrare un array per qualche condizione con un metodo funzionale col metodo filter è una riga in cui passiamo una funzione con un metodo non funzionale è come abbiamo fatto prima per username un ciclo e un if a suo interno dove l'if rappresenta la condizione di filtraggio che è la stessa condizione che noi avremo nella callback per fare il filtro nel metodo filter javascript adotta il paradigma funzionale e noi di nuovo non useremo javascript da un punto di vista puramente funzionale ma giusto per darvi un'idea di che cosa è la programmazione funzionale la programmazione funzionale è un paradigma di programmazione dove gli sviluppatori costruiscono e strutturano il codice unicamente o principalmente utilizzando funzioni quindi si fa tutto con delle funzioni si fa quasi tutto con delle funzioni javascript è predisposto per usare questo paradigma ha al suo interno diverse cose anche se non è il paradigma principale di javascript che è quello più orientato agli oggetti e ai prototipi come abbiamo detto l'altra volta la programmazione funzionale è uno stile più dichiarativo rispetto a uno stile imperativo come quello for e può come conseguenza anche migliorare la leggibilità di un programma perché in un'unica riga si fanno cose invece di avere for nei dati con degli if e ci sono quattro caratteristiche principali del paradigma funzionale il primo ce lo dà gratis javascript per come è costruito che le funzioni sono cittadini di prima classe quindi le funzioni possono essere usate come variabili come costanti possono essere combinate con altre funzioni possono generare nuove funzioni nel processo possono essere concatenate tra di loro e questo javascript ce lo dà quasi gratis dipendendo dal fatto che le funzioni sono oggetti e quindi dato che un oggetto può essere passato come parametro anche una funzione può essere passata come un parametro l'altra caratteristica è che le funzioni devono essere di ordine più alto di ordine alto e quindi deve essere una funzione che può operare su altre funzioni prendendo una o più funzioni come argomento e tipicamente ritornando una funzione questo può sembrare un po' strano una funzione che opera su altre funzioni passando come argomento funzioni e ritornando funzioni però di nuovo se noi pensiamo alle funzioni come oggetti è un qualcosa che potenzialmente possiamo fare le funzioni si devono poter comporre quindi si deve poter prendere una funzione e attaccarci un'altra funzione in qualche modo e collegata a questo si possono anche chiamare in maniera collegata in catena l'una all'altra quindi il risultato di una funzione viene immediatamente passato come input per la funzione successiva che viene immediatamente passato come input per la funzione successiva creando quindi una catena di funzioni collegate l'una con l'altra in cui il risultato di una è l'input dell'altra e così via fino ad arrivare al risultato vero e proprio queste sono quattro caratteristiche della programmazione funzionale e l'altra caratteristica l'altro requisito della programmazione funzionale è che nella programmazione funzionale si cerca di evitare il più possibile il fatto che le cose siano mutabili quindi si possono cambiare quindi non si cambiano oggetti in place quindi come metodi degli array che cambiano array in place questi sono evitati nella programmazione funzionale pura e quindi se uno deve cambiare un array restituisce una copia di un array questo perché l'oggetto principale di ragionamento è la funzione quindi la funzione prende un dato un array e restituisce un nuovo array che verrà preso in carico da un'altra funzione per fare autooperazioni questa è la programmazione funzionale l'idea di programmazione funzionale in tre secondi la programmazione funzionale in javascript esiste e viene utilizzata soprattutto per quanto riguarda gli array e questi sono i metodi principali funzionali questi in slide che vengono che si possono utilizzare con gli array adesso li vedremo tutti ma possiamo partire dai più semplici come il for each che è un iteratore è come un for every e sum che controllano se qualche elemento che iterano su un array e controllano se qualche elemento rispetta una certa condizione condizione specificata da un callback mappe filter che fanno operazioni sugli array costruendo quindi il nuovo array in risultato e reduce che è un'operazione più complessa in cui si calcola progressivamente un risultato e quindi come vedete anche dalla signature di reduce è un po' complicata perché la callback ha un accumulatore un valore corrente poi può avere un index poi può avere un array e poi può avere un altro valore iniziale e così via quindi il più semplice è il for each che cicla e il più complicato tra i metri funzionali in questa slide è il reduce che fa delle operazioni per esempio il reduce si può utilizzare per calcolare la media utilizzando una callback quindi passando un array ottenendo il risultato che è la media di quell'array adesso li vediamo una alla volta for each for each chiama la callback passata come argomento sempre in maniera sincrona una volta per ogni elemento di un oggetto che è iterabile come un array quindi guardiamo questo esempio se noi abbiamo un array composto dalle lettere di hello world questo è l'operatore di spread quindi prendo ogni lettera e la faccio diventare un elemento dell'array letters.for each quindi per ogni lettera che è il primo argomento che è l'unico argomento della for each cosa faccio? chiamo l'upper case di quella lettera e memorizzo il risultato in un'altra variabile in questo caso uppercase e poi stampo il risultato quindi questo è come fare for letter in letters letter.upper case e salvare il risultato in la variabile uppercase invece di scrivere for in quel modo lo scrivo al contrario oggetto array punto for each elemento che in questo caso chiamo letter come una variabile cosa faccio? corpo della callback quindi questo si applica per ogni array o per ogni cosa che è iterabile la callback può avere tre parametri il primo è l'unico di default che è il valore corrente il valore corrente è l'elemento su cui stiamo iterando sull'array può avere altri due parametri che sono opzionali che è index e array che sono comuni a molti altri metodi funzionali index è l'indice del valore corrente quindi al primo giro sarà 0 al secondo giro sarà 1 eccetera nel caso in cui serva nel corpo della funzione e array è invece l'array intero una copia dell'array intero su cui si sta iterando sempre nel caso in cui serva nel corpo della funzione for each ritorna undefined quindi se memorizzate una variabile risultante da for each ottenete un undefined quindi non torna niente di utile e non è concatenabile con altri metodi quindi non si può fare un punto o qualcos'altro e non c'è modo di fermare un for each in alcun modo se non lanciando un'eccezione inoltre for each per definizione non muta l'array quindi non cambia niente nell'array ma ovviamente non ha controllo su quello che fa la callback quindi la callback potrebbe a un certo punto fare mutare l'array e questo ovviamente for each non lo sa ma lo sviluppatore non dovrebbe avere una callback che cambia l'array su cui si sta ciclando questo in ogni caso comunque e questo è for each semplicemente per ciclare e fare qualcosa che definisce la callback every every testa se tutti gli elementi in un array passano un certo test rispondono a una certa condizione ha gli stessi tre parametri del for each quindi valore corrente l'indice opzionale e l'array su cui si sta iterando opzionale in questo caso ritorna un boolean true se tutti gli elementi superano il test false se ce n'è almeno uno che non lo supera e come funziona? funziona che cicla su ogni elemento appena ne trova uno che non supera il test ritorna false e non prosegue con il ciclo quindi se il primo elemento ritorna false non vedrà mai nessuno degli altri elementi perché il suo obiettivo è verificare se tutti gli elementi soddisfano una condizione oppure no e l'oppure no è appena ne trovo uno che non la soddisfa interrompoli e e qui c'è un esempio cosa fa questo questo esempio allora il primo cosa ci dice? qual è la condizione da rispettare nel primo caso? che il numero corrente è inferiore a 10 quindi in questo caso è vero perché sono tutti inferiori a 10 la seconda condizione se sono pari quindi in questo caso quando si interrompe il ciclo a che indice si interrompe il ciclo? a 0 perché appena inizia con 1 è pari no e quindi every si interrompe lì e non va avanti con gli altri elementi e restituisce subito false sum è imparentato con every logicamente fa la stessa cosa verifica se degli elementi di un array soddisfano delle condizioni ma in questo caso mentre every diceva o tutti gli elementi lo soddisfano oppure niente questo verifica se almeno uno lo soddisfa quindi se sum degli elementi soddisfa la condizione anche lui ritorna un boolean vero o falso e viene eseguito una volta per ogni elemento quindi in questo caso con lo stesso array cosa torna? torna true perché torna true? perché ci sono due valori pari e quindi in questo caso torna true se ne avessimo 1, 3, 5, 7 tornerebbe false perché non c'è nessun elemento pari e questi sono per testare quindi testo se è un qualcosa rispetto a una condizione con i numeri è facile ma potete anche immaginarlo con string o con altri oggetti più complessi la callback deve verificare deve fare una qualche verifica su su quegli oggetti e di nuovo la differenza che every testa tutto e appena ne trova uno che non rispetta la condizione si interrompe sum ne cerca almeno uno che trovi la condizione e questi sono per iterare o per verificare for each per iterare every e sum per verificare iterando map permette di costruire un nuovo array map passa ogni elemento dell'array a una funzione che è chiamata per ottenere un nuovo risultato e ha come condizione che la callback deve restituire qualcosa perché se no non può costruire una nuova funzione e map torna sempre un nuovo array contenente i valori ritornati dalla callback allora guardiamo cosa fa map qui abbiamo un array che contiene 1, 2, 3 chiamiamo map su l'array a e gli passiamo come callback che per ogni elemento prendiamo quell'elemento e lo moltiplichiamo per se stesso quindi map cosa fa? prende il primo elemento 1 e lo moltiplica per se stesso e memorizza in un array temporaneo il risultato dell'operazione che è 1 per 1 1 poi passa secondo e fa risultato c'è anche scritto quindi 4 e il terzo 9 e quindi in B ci sarà un array contenente 1, 4, 9 quindi applica questa operazione su ogni singolo elemento dell'array questo è l'equivalente quest'altro esempio è l'equivalente dell'esempio che c'era sul filter all'inizio per cui io prendo ogni lettera di hello world e la metto uppercase e restituisco direttamente il risultato tutto maiuscolo rispetto all'esempio di prima se lo ricordate dove è finito rispetto all'esempio di prima sul for each cosa cambia che nel for each ci serviva una variabile di supporto che era questo uppercase creata prima inizializzata vuota e poi sommavamo concatenavamo ogni lettera mentre nel caso del map la variabile di supporto non ci serve più perché è quella destinazione e non dobbiamo fare più nessuna concatenazione perché è implicito in map che tutte le volte lui aggiunge qualcosa a un array la concatenazione è meglio dove la facciamo perché la facciamo a un certo punto la concatenazione per farlo diventare stringa questa join qui che quindi unisce tutto in un'unica stringa no perché deve essere iterabile la stringa è iterabile si si deve applicare mappa anche sulla stringa però si dice comunque un array perché le stringe sono immutabili e quindi comunque non potremmo modificarle si le stringe sempre un nuovo array quindi tu puoi invocarlo su altri oggetti iterabili ma torna comunque un array queste map operazioni quindi in quel caso abbiamo convertito tutto in maiuscole oppure fatto un'operazione matematica di moltiplicazione dell'elemento per se stesso filter invece si ma in generale tutto ciò che si può fare con il politico si può fare anche con il mazzo se devi manipolare adesso tutto non ci giurerei ma se devi manipolare un qualcosa ottenere dei risultati da un array a un altro sì certo che se tu il for each lo usi solo per stampare o per verificare una condizione e quindi non ti serve un risultato in un array ma ti serve solo stampare vero falso allora il map ti darebbe un array che contiene vero falso quindi non ti sarebbe utile quindi il for each è più generico puoi iterare come un for puoi iterare perché cosa tu fai dentro il for sta a te puoi anche dire a un certo punto appena trovo questo elemento lo salvo da qualche parte o incremento un numero o incremento un contatore definito sopra o restituisco true eccetera il map invece ti restituisce un array scusa? quindi quando si tratta di il map fa un for each per manipolare un array non è detto che il for each è più generico quindi potresti fare anche cose che non richiedono la creazione di un nuovo array filter anche filter manipola un array ma come dice il nome il suo scopo è fare un filtro quindi restituisce un array con tutti gli elementi che passano un certo test fornito dalla funzione la callback deve tornare vero o falso non può tornare altro e se non c'è nessun elemento che passa il test viene restituito l'array vuoto quindi in questo caso se abbiamo quest'array 5 4 3 2 1 filter ci dà un array con tutti gli elementi che sono minori di 3 quindi 5 non lo è 4 non lo è 3 non lo è e quindi 2 lo è e 1 lo è e il risultato sarà un array che contiene 2 1 anche filter ha gli altri due parametri opzionali index e array nel caso servissero quindi per esempio cosa fa questo ultima riga seleziona quelli con indice pari quindi quello con indice 0 2 e 4 dove 0 è pari ok ora anche questo in questo caso ci serve index non ci serve element ma ci serve index che è il secondo parametro però dato che abbiamo detto prima sono posizionali gli elementi in una funzione elementi dobbiamo comunque dichiararlo poi semplicemente non lo usiamo e poi possiamo fare usiamo index per fare il resto e verificare quindi se gli elementi sono nelle posizioni pari incluso lo 0 e anche questo se voi lo immaginate si può scrivere questo callback di filter in maniera che funzioni con la map se immaginate un modo perché anche in quel caso potrebbe verificare che eccetera però filter nasce per filtrare map nasce per operazioni di composizione anche più complicate di un filtro semplice però si potrebbe anche fare con con filter reduce noi ci troveremo a utilizzare diverse volte for each ci troveremo a utilizzare diverse volte filter perché è molto comodo se devo filtrare qualcosa e anche map se devo combinare elementi di array o modificare array e il reduce lo useremo molto meno però è l'ultimo metodo funzionale a disposizione quindi ha senso parlarne reduce cosa fa combina gli elementi di un array usando la callback specificata e produce un valore singolo quindi a differenza di mappe di filter che restituiscono un array questo restituisce un valore solo e reduce è un'operazione comune nella programmazione funzionale che prende il nome di inject and fold ma giusto come nota teorica e reduce a differenza degli altri elementi degli altri metodi a due parametri obbligatori a due argomenti obbligatori e una è rifaccio reduce a differenza degli altri metodi ha un parametro obbligatorio che è la callback ma anche un parametro opzionale al di fuori della callback e all'interno della callback ha due parametri obbligatori e due parametri opzionali che sono sempre index array come per gli altri elementi funzionali la callback è quella che è la funzione di riduzione che quindi è quella che realizza questa combinazione di elementi da un array a un valore singolo e il secondo valore che è quello opzionale al di fuori della callback è un valore iniziale che viene passato alla funzione un seed per fare l'operazione di combinazione degli elementi se non è passato usa il primo elemento dell'array come elemento iniziale e poi itera sull'array a partire dall'elemento dopo quindi questo valore iniziale se non c'è viene inteso è il primo elemento dell'array se c'è si usa quello e l'array parte dall'indice 0 l'iterazione per realizzare l'operazione di reducing di riduzione avviene dall'elemento dopo e la callback ha due parametri in maniera diversa da quelli precedenti perché il primo parametro è l'accumulatore quindi il risultato accumulato combinato dall'operazione di riduzione fino a quel momento specifico quindi questo è un valore esplicito che abbiamo come parametro a differenza degli altri che per esempio avevano ovviamente un qualcosa temporaneo ma che non veniva offerto in un certo senso al programmatore e proviamo a vedere come funziona che forse lo chiarifica meglio reduce abbiamo come callback due parametri l'accumulatore e il valore corrente in questo caso passiamo anche il parametro iniziale che è messo a 0 e la callback fa accumulator più valore corrente e dato che è un arrow function e non ha le parentesi graffe fa il return di quella risultato quindi restituisce la somma tra l'accumulatore e il valore corrente quindi cosa fa se lo facciamo su questo array 5 4 3 2 1 passo per passo al primo giro l'accumulatore assume il valore iniziale quindi 0 e quindi fa 0 più 5 e quindi inserisce nell'accumulatore 5 al secondo giro fa 5 più il valore corrente che è 4 e quindi 9 il risultato è 9 e viene inserito nell'accumulatore al terzo giro fa 9 più 3 il risultato al giro successivo più 2 al risultato al giro successivo più 1 quindi combina i valori di un array e restituisce un valore unico in questo caso è la somma all'inizio faceva 5 più 4 salta il primo se non c'è lo 0 lui comunque salta e quindi in questo caso non sarebbe cambiato niente se qua non ci fosse stato niente avrebbe fatto avrebbe messo 5 nell'accumulatore che è il primo valore e avrebbe usato come valore corrente quello dopo credo ci sia scritto qua se non è specificato usa il primo elemento dell'array come valore iniziale e l'iterazione inizia dell'elemento successivo niente per la somma non cambia niente se uno fa una moltiplicazione può aver senso invece avere un valore iniziale per non moltiplicare in questo caso moltiplicando per 1 e qua fa 120 e si può anche usare con modi più complicati anche in questo caso non sarebbe cambiato avrebbe fatto 5 per 4 e così via in questo caso non c'è per esempio l'elemento iniziale e in questo caso reduce è usato per prendere per calcolare qual è il valore più alto dell'array quindi non combina davvero gli elementi in modalità somma moltiplicazione divisione eccetera ma viene usato per dire se l'accumulatore è maggiore del valore allora restituisco l'accumulatore al passaggio successivo altrimenti restituisco il valore in questo caso dentro l'accumulatore ci sarà sempre l'elemento maggiore che in questo caso per come è strutturato l'array essendo ordinato dal 5 in giù è subito il primo elemento ok questa sintassi è chiara a tutti cosa fa? si? cosa fa? in maniera generale? si si no ma la sintassi se se la condizione è vera ritorna il primo valore dopo il punto di domanda altrimenti else val ok e questo è il reduce e qui c'è anche un disegnino che riassume alcuni e altri anche metodi degli array inclusi metodi funzionali non tutti questi sono funzionali ma giusto visivamente e domande se no proviamo a applicare questi metodi funzionali nell'esercizio ok allora proviamo a riscrivere il find come metodo funzionale come diventa? dobbiamo trovare tutti le risposte di un certo utente che si chiama con un certo username il filter di che? con un filter lo facciamo? sì quindi cosa scriviamo qua? this.answers punto filter poi ci serve il current value che possiamo chiamarlo ans di nuovo come answer e poi qual è la condizione su cui dobbiamo filtrare? answer punto che è sempre quella di prima answers punto scusate con calma ans punto username uguale uguale username quindi restituisce un array dove questa condizione il singolo elemento lo username del singolo elemento coincide con lo username passato come parametro cosa ci manca anche? perché così non funziona ci manca un return oppure togliere le parentesi graffe ma dall'arrow function ok a questo punto possiamo provare a fare l'after date ci servono tutte le risposte dopo una certa data quindi di nuovo filter this.answers punto filter sempre answer sempre answer e cosa scriviamo qui? allora innanzitutto ci serve la data della risposta dov'è la data della risposta? ans.date e poi ci serve un qualcosa che ci dica e dopo che se noi andiamo a vedere la documentazione di djs c'è una proprietà is after che vuole una data in formato djs e può fare l'intero confronto o può fare un confronto come dicevamo prima per mese per anno e quant'altro quindi un pezzettino solo altrimenti ha una granularità al millisecondo quindi e non è un plugin quindi è incluso quindi è incluso senza senza installare niente ok quindi ans.date dato che abbiamo messo date come oggetto djs possiamo scrivere is after e qui ci serve un una data che possiamo o assumere che questa sia già un oggetto di tipo djs oppure se quella è una stringa dobbiamo convertirla in oggetto djs quale strada apriamo la prima o la seconda quale sarebbe la seconda ok chi dice che assumiamo che questo sia un oggetto djs ok chi dice che deve essere una stringa va bene quindi djs di date così ogni volta che abbiamo il metodo facciamo la conversione e ovviamente quello deve essere una stringa se quell'oggetto fosse un oggetto di tipo djs cosa succede funziona da errore funziona perché converte djs in djs quindi è un'operazione che può fare è solo un'operazione in più inutile ok list by date list by date era mostra l'elenco delle risposte ordinate per data qui non ci serve la programmazione funzionale ma ci serve una callback e quindi ci serve il sort quindi cosa scriviamo? return poi poi punto sort e poi ci serve la callback che come vi ricordo deve avere due parametri deve avere due parametri a e b e se restituisce 1 a è maggiore di b altrimenti deve restituire meno 1 in questo caso le date quindi possiamo usare is after o is before ma abbiamo visto is after possiamo usare is after e possiamo scrivere a punto date punto is after b punto date quindi se a la data di a nel primo oggetto e dopo la data del secondo oggetto dell'array restituiamo 1 altrimenti restituiamo meno 1 e se vogliamo fare l'ordinamento opposto quindi per date decrescenti facciamo il contrario oppure usiamo is before perché vi ricordo che la callback di sort vuole necessariamente un numero negativo un numero positivo o 0 se le date sono uguali c'è un problema in questa riga se sono uguali ritorno a meno 1 quindi tanto essendo uguali al massimo cambiano posto però alla fine rimangono nell'ordine giusto c'è un altro problema più serio di quello che il sort è in place quindi una volta che noi lo ordiniamo stiamo ordinando this answer che è quello contenuto dentro l'oggetto e noi non vogliamo ordinare quello vogliamo una copia se no tutte le volte viene ordinato secondo qualche parametro e perdiamo l'ordine originale quindi cosa dobbiamo fare? ci creiamo una copia dell'array e come la facciamo? senza andare a scomodare map array from oppure c'è un modo ancora più con lo spread quindi se noi qua facciamo un array che fa lo spread dell'altro array otteniamo una copia dell'array questo l'abbiamo visto come cosa idiomatica in javascript quindi prendiamo l'array lo scompattiamo e lo mettiamo in un altro array e quindi abbiamo fatto una copia dell'array ok? ci siete? list by score list by score ormai dovrebbe essere facile avendo fatto list by date cosa dobbiamo fare? questo era per ordinare le domande per ordine con punteggio decrescente quindi dal più grande 5 punti al più piccolo meno 10 punti nel nostro caso cosa scriviamo qui per ordinare in ordine decrescente un numero? bisogna fare sempre la sorte come prima quindi return aperta quadra tre puntini this.answers punto sort sempre a e b aspetta fammi scrivere a e b di due risposte no perché deve tornare un numero b punto score meno a punto score puoi farlo anche così però poi metti i punti di domanda e andare a mettere meno uno se è vero o uno se è falso dato che questi sono numeri tanto vale ordinarli come se fossero numeri quindi b punto score meno a punto score in ordine decrescente se fosse ordine crescente avremmo fatto il contrario ok andiamo a provare se queste funzionano ci siete? vedo qualcuno ancora che guarda lo schermo quindi ok quindi andiamo qui sotto e facciamo un console.log di question punto il find c'è già quindi possiamo vedere se funziona da prima e cosa abbiamo aggiunto? abbiamo aggiunto il list by date il list by score e il come si chiama già? after date e che data possiamo mettere? facciamo il il 29 di febbraio così abbiamo solo le due risposte di marzo quindi after date 2024 0 3 0 2 29 perché quest'anno essendo bisestile possiamo fare 29 e qui ovviamente vediamo la rappresentazione grezza dell'array risultante perché non stiamo facendo un toString e non stiamo convertendo e non c'è una concatenazione di string quindi non c'è nessuno che forza la chiamata del toString delle delle domande delle risposte ok se noi lanciamo questo verifichiamo innanzitutto che diamo all'inizio la prima cosa va finito ok la prima cosa è question quindi l'abbiamo già vista prima poi c'è il find che continua a funzionare anche se l'abbiamo fatto col metodo funzionale poi la lista per data e quindi abbiamo il 20 vabbè abbiamo il 28 febbraio e poi dopo abbiamo il primo marzo e poi dopo abbiamo il 10 marzo quindi e poi in fondo abbiamo l'11 marzo quindi sta funzionando ordinata per score abbiamo 5 0 0 e per l'ultimo meno 10 e l'ultima cosa è l'after date in cui dobbiamo avere solo quello del primo marzo che è la risposta 1 e poi le ultime due risposte quindi quella di not in a million year e no dell'11 marzo e poi anche quella del 10 marzo che sono tre giusto 10 marzo 11 marzo primo marzo ovviamente quella del 28 non c'è perché abbiamo filtrato per per le date ovviamente se qui scrivessimo come abbiamo scritto prima quindi concatenando o interpolando stringhe e quindi qui scriviamo by date by score e after 2024 02 29 e lo eseguiamo non vediamo più la versione grezza diciamo ma vediamo la versione compatta perché in questo caso va a chiamare il toString che abbiamo definito prima ma il risultato ovviamente non cambia prima il 28 poi il primo poi il 10 e così via ok domande ecco la cosa che non vi ho detto è che i metodi funzionali possono essere concatenati quindi voi poteste fare filter di qualcosa punto map quindi il risultato del primo va a finire nell'altro in automatico e semplicemente scrivendo this punto answer filter qualcosa punto map qualcosa punto qualcos'altro e questo va messo in catena e viene eseguito in catena uno dopo l'altro questo è tipico dei metodi funzionali non funziona solo col for each il for each non è non si può entrare in questa catena ma per gli altri metodi funzionali che abbiamo visto si può fare in cui il risultato di uno va a finire nel nell'altro ok io la finirei qui per oggi senza iniziare la parte asincrona che riprendiamo martedì giovedì c'è il primo laboratorio vi ricordo due turni uno dall'8 e mezza alle 10 e uno la prima parte dei cognomi c'è scritto nelle slide iniziali lo metteremo anche nel calendario la seconda parte dei cognomi 8 e mezza 10 e 11 e mezza il testo del laboratorio dovrebbe uscire oggi e sarà su le cose che abbiamo visto finora quindi cicli oggetti costruttori e metodi funzionali se avete domande sono ancora qui per 10 minuti mentre stacco tutto altrimenti ci vediamo martedì prossimo e buona settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti